Bene, in compagnia di Federico Cerminara, che molti di voi conoscono perché è uno storico attivista per i ditti civili della comunità LGBTQI asterisco e non solo, organizzatore insieme a un'altra persona di questo seminario soggettività atopiche ai intorni della sessualità normativa. Sarà presentato l'11 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 17 e 30 presso l'Aula Caldora dell'Università della Calabria a Cosenza. Gli chiediamo innanzitutto cosa tratterà, chi sono i relatori e soprattutto se abbiamo la possibilità di sentire dalla viva voce di alcuni di loro che l'hanno organizzato, cosa è questo seminario che parla di sessualità e non solo. Ciao Riccardo, è sempre un piacere essere intervistato da te perché hai quella capacità di introdurre le cose che è unica, non è un caso che ci conosciamo da 25 anni e possiamo ben vantare di essere non semplici conoscenti ma storici amici. Allora il seminario è un seminario che è nato dalla mia volontà e da quella di Giuseppe Capalbo che è un dottorando e il nostro desiderio è stato quello di focalizzare l'attenzione su un tema che a mio avviso è trasversale rispetto alle tematiche legate alla discriminazione ovvero il tema della sessualità. Questa volta però non partiamo dalla sessualità cosiddetta normativa ma abbiamo voluto prestare attenzione e dar voce a quelle sessualità che possono essere definite invisibili con un intento ben preciso anche perché nel corso di questo seminario il focus sarà l'intervento di Cirrus Rinaldi dell'Università di Palermo che di recente ha scritto un libro che è Outsiders Sessuali che partendo da alcune teorizzazioni in estrema sintesi testimonia come non esista una sessualità normativa e che anche in quella che comunemente viene considerata sessualità normativa c'è una tra virgolette forma di devianza nel senso che non esiste nemmeno per le persone eterosessuali un modo univoco di interpretare la sessualità. Quindi affrontando il tema delle sessualità cosiddette outsiders che sono la sessualità delle persone omosessuali con un focus ben preciso sulla omosessualità femminile e la sessualità all'interno delle carceri, il tema dei sex workers, sono tutte queste tematiche che sono difficili da sviscerare che facciamo un ragionamento al contrario, partiamo dai casi estremi e se le persone riescano a comprendere quella che è la sessualità Outsiders probabilmente riusciranno ad interrogarsi anche sulla sessualità cosiddetta normativa in una visione che di normativo ha ben poco. Quindi la nostra speranza è che affrontare questi temi sia il modo per ricollocare tematiche che questa università ha storicamente affrontato ma che devono essere sviscerate da altri punti di vista e con interlocutori privilegiati gli studenti di questa stessa università. E quindi visto che tu parlavi di studenti dell'università io a questo punto darei la parola agli studenti dell'università perché gli studenti dell'università del corso della professoressa Bruna Mancini hanno tanto da dire. Tu che dici? Li facciamo parlare? Li facciamo parlare perché resteremo sicuramente esterefatti da quello che ci diranno nella loro umanità e nella loro complessità perché secondo me il dato che sicuramente emergerà è che ognuno ha qualcosa da dire che è il detto, il raccontato, il vissuto ha sicuramente un valore maggiore di tutte le teorizzazioni che possiamo presupporre perché io sono, e lo sai, fortemente convinto ma lo siamo entrambi perché veniamo dalla militanza pura che il cambiamento sociale non può che passare per il tramite del cambiamento culturale ma soprattutto delle azioni concrete come mi ricorda il mio caro amico Marco Marchese noi non siamo persone che facciamo parole, le parole le facciamo fare agli altri e siamo persone concrete quindi è questo senso di concretezza e di attaccamento alla realtà che mi spinge nonostante, e io l'11 dicembre compirò 45 anni e quindi mi sono fatto come regalo proprio questo seminario quella forza di credere sempre che le cose possono migliorare e questo è lo spirito che spero che i ragazzi, soprattutto i ragazzi che per me sono, ripeto, gli interlocutori privilegiati di questo incontro sentono in modo tale che un giorno saranno loro a fare un'azione concreta di cambiamento così come noi abbiamo fatto in passato in modo tale che ci potremo finalmente pensionare e cedere definitivamente il testimone Federico, allora io veramente ringrazio Federico Cerminara per il tempo che ci ha dedicato e a questo punto cedo la parola ai ragazzi che ci racconteranno nello specifico cosa ci aspetta l'11 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 17 e 30 nell'aula Caldona dell'Università della Calabria grazie Federico, la parola ai ragazzi grazie a te allora liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo in collegamento con l'Unical dall'altra parte abbiamo varie persone che si alterneranno nelle risposte alle domande che noi porremo in merito a un seminario si chiama soggettività atopiche ai dintorni della sessualità normativa e il seminario si terrà l'11 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 17 e 30 nell'aula Caldona dell'Università della Calabria la domanda è proprio questa, l'importanza di questo seminario riguarda proprio la sessualità e dintorni della normativa dacci una tua definizione o comunque un tuo contenuto in merito il mio nome è Lorenzo Garompolo e sono oriente dell'Università della Calabria della laurea magistrale del corso magistrale primo anno primo anno della laurea magistrale penso che partecipare ad un incontro di questo tipo, ad una conferenza di questo tipo potrebbe essere molto interessante per coloro che non sono mai venuti a contatto con gli studi del gender, gli studi queer poiché spesso si ha semplicemente una conoscenza per sentito dire spesso da individui che non hanno nessuna conoscenza al riguardo persino coloro che si ritengono avvocati del gender o del queer sono spesso inconsapevoli di tali degli studi che ci sono dietro e dell'importanza che c'è ti faccio una domanda un po' più tecnica, più dettagliata tu parlavi appunto di studi di genere, di queer e proprio di avvocati spesso e volentieri gli avvocati sono anche all'esterno del mondo diciamo LGBTQI asterisco perché non fanno parte del vario pinto mondo quindi magari hanno studiato in maniera normativa, si sono documentati però non sanno cosa voglia dire, non so, anche una persona cisgender che magari è una novità spesso le terminologie soprattutto vengono confuse dal modo in cui sono illustrate da determinate persone per tale motivo ad esempio il nostro corso attuale, quello di letteratura inglese la letteratura inglese almeno magistrale e se non ricordo male anche le azioni triennali da professoressa Mancini quello che viene spiegato è spesso la terminologia che c'è dietro l'identità nuovi tipi di identità come vengono illustrati nella nostra modernità soprattutto termine il gender prima di tutto è quello che viene spiegato perché è maggiormente importante per l'argomento certo certo, ma poi la cosa che mi affascina è quella che già è difficile per molte persone non solo qui al sud definire gli acronimi tradizionali LGBTQ se andiamo avanti nei termini che vengono a variare sì perché abbiamo adesso, non so, le persone intersex piuttosto che le persone addirittura sessuali ci sono tante, io non le voglio chiamare categorie però modi di essere, esatto, orientamenti, modi di sentire modi di essere naturalmente in un determinato ambito, in un determinato modo un'ultima domanda da questo seminario può ovviamente uscire qualunque cosa c'è la possibilità di interagire quindi di far domande di poter parlare con voi e quindi togliersi dei dubbi che anch'io ma anche altri da casa hanno e non so, potendo intervenire si può fare? certamente, si possono fare domande a coloro che ospitano questa sorta di conferenza e sicuramente avranno risposte molto esotive poiché abbiamo già, diciamo che persino chiedere agli studenti sarebbe una cosa positiva per ottenere qualcosa di più riguardo ai gender studies o ai queer studies visto che i nostri corsi sono già abbastanza preparati al riguardo anche se non siamo proprio alla fine però siamo comunque a un buon punto e quindi qualora qualcuno fosse interessato all'argomento può benissimo venire a partecipare e qualora avesse anche un minimo di curiosità per i gender studies per l'argomento trattato potrà saziare la sua curiosità senza problemi perfetto grazie grazie davvero nulla Alba io sono Ajar Mahfoud sono nata in Marocco ho vissuto per 15 anni a BIP adesso sto frequentando l'università della Calabria e sono al secondo anno della triennale di lingua e culture moderna ti trovi bene nell'università della Calabria? sì 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 è una realtà abbastanza variegata variegata e invece merita questo seminario dell'11 dicembre 2019 cosa puoi aggiungere rispetto a quello che hanno detto gli altri? allora io conosco davvero tantissime persone soprattutto qui l'ho conosciute che appunto hanno queste attitudini o sono considerate appunto in queste tematiche che abbiamo affrontato e spero di ampliare le mie conoscenze perché sono una persona abbastanza curiosa e quindi spero di sapere sempre di più soprattutto in questi ambiti per quanto riguarda la sessualità penso che rispetto a 20-30 anni fa si sono fatti molti passi avanti anche per quanto concerne i social i social hanno sdoganato tante tematiche e soprattutto diciamo queste varianti naturali che sono gli orientamenti sessuali sei una ragazza molto giovane e tu come ti rapporti con il sesso nel senso gli approcci sessuali sono cambiati secondo te rispetto anche 5-10 anni fa o rispetto anche al tuo paese visto che viene dal Marocco allora sì io vengo ovviamente essendo stata cresciuta da due genitori che hanno avuto quella cultura lì quindi sono stampati meno male quando mi sono ritrovata ad affrontare una realtà così diversa dalla mia perché nel mio paese queste cose non vengono nemmeno citate ovviamente mi sono sentita un po' scossa però sinceramente non mi da nessun fastidio anzi cioè mi trovo benissimo è normale che nella mia famiglia non è che si possa parlare tanto di diversi argomenti però nel mio privato cerco di fare le mie ricerche io penso che questo sia positivo e un po' avviene anche in Italia io penso che il Marocco rispetto anche al sud Italia alle volte o anche ad altri paesi per quanto riguarda i genitori i genitori tendono anche a essere protettivi nei confronti dei figli e magari per determinate tematiche ci vanno con i piedi di piombo tu sei giovane quindi hai più fortuna ad approcciarsi con i tuoi tani quindi vedere le cose in maniera totalmente diversa e poi vorrei farti una domanda siccome si parlava prima di gruppi come vi confrontate fra di voi cioè al di fuori dell'ambito diciamo studentesco uscite anche insieme riuscite anche a parlare di quello che è poi non solo la sessualità ma il vostro diciamo corso certo perché noi allora nel gruppo in cui che ci ha affidato la professoressa noi siamo capitati il giusto gruppo c'è dai nostri amici e ci chiamiamo lo speccadores ma in realtà noi ci siamo conosciuti la prima settimana di università lo speccadores che tradotto vuol dire? è tipo peccato, i peccatori lo speccadores, tipo i peccatori? lo speccadores si 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 e ognuno di noi è diverso dall'altro è così ci siamo creati questo gruppo usciamo sempre insieme tipo siamo veniamo da tutte parti del mondo abbiamo diverse particolari cioè siamo uno differente dall'altro e non ci stupiamo mai l'uno dell'altro e quindi per noi è stato proprio è fantastico davvero perché poi sono quelle diversità che vi fanno comunque vi legano vi fanno stare insieme siete i colori dell'arcobaleno fondamentalmente si 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 proprio quello cioè quando ci siamo ritrovati a quella lezione abbiamo detto siamo noi cioè proprio noi siete riconosciuti un po' come nella serie di tu sensei più o meno si 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 siete voi siete voi va bene guarda bella testimonianza io ti ringrazio perché comunque fai capire ancora di più che le barriere non esistono cioè pur essendo diversi pur essendo considerati peccadores o lo streccatore comunque sia si può stare insieme si può parlare di tutto l'importante è che c'è curiosità che ognuno di noi vuole dare un qualcosa a qualcun altro perché io li butto nel mio mondo e loro mi buttano nel loro quindi questo è bello buon pomeriggio sono Manuel ho 20 anni sono di Reggio Calabria però vivo a Cosenza in quanto studio lingue e sono il secondo anno Manuel rispetto alla realtà diciamo di Reggio Calabria quella cosentina e dell'università nello specifico quanto è diversa anche sotto il profilo dell'approccio sessuale o dei temi a natura sessuale? ok allora diciamo che Reggio Calabria è una città a malincuore lo devo dire abbastanza chiusa mentalmente mentalmente molto retrograda se mi permette diciamo che vedo in Cosenza una città in cui posso esprimere il mio essere ma più che Cosenza vuol dire rende perché rende essendo una città ecco universitaria è molto più diciamo mi spinge ad essere come sono cioè non dovrei vergognarmi anche di quello che sono insomma mentre Reggio Calabria è un po' difficile ecco in quanto retrograda guarda io che ho vissuto anche Reggio Calabria diciamo 20 anni fa la vicinanza per esempio di un locale siciliano che sarebbe il Pegaso faceva sì che ci fosse una vita gay o comunque una vita LGBT a Reggio Calabria uno dei primi posti forse molto diciamo colorato e comunque con un approccio LGBT che era proprio Reggio Calabria poi le cose forse si sono ribaltate per la vicinanza dell'università l'università della Calabria ha fortunatamente un variegato mondo arcobaleno al suo interno e dà molta libertà nel corso in questo specifico corso della professoressa e soprattutto dell'11 dicembre di questo seminario ci vuoi dare ad esempio un primo tuo sentire di quello che è stato anche il lavoro di gruppo allora intanto io leggendo la guandina ho visto che si parlerà anche di una sigmatizzazione per quanto riguarda il corpo queer in ambito HIV e AIDS ecco io vorrei dire che questo è un ottimo passo in avanti nel senso aprire le menti ai giovani è molto importante anche il laboratorio che abbiamo fatto è stato molto interattivo diciamo che questo rendere partecipi giovani di quello a cui possono andare incontro quindi come HIV o AIDS è molto molto importante e credo anche che questo incontro appunto dell'11 sia molto utile e lo spero ma penso che insomma lo sia non so se è il corrente del fatto che una volta si diceva che l'HIV era la malattia degli omosessuali poi fortunatamente la cultura è andata avanti e adesso addirittura c'è una recrudescenza non solo dell'HIV ma anche addirittura della sipilide e purtroppo avviene tra le persone eterosessuali e non esiste diciamo una categoria che è più soggetta o meno a una determinata malattia anche questo immaginario collettivo almeno all'epoca era diciamo uno stigma sociale un po' come l'essere considerato gay negativo o comunque come l'essere considerato queer o piuttosto addirittura le persone trans che vengono secondo me tra le più stigmatizzate in quanto sono ancora oggi la transfobia è comunque un grosso male a parte l'omofobia però la transfobia io la considero anche un po' di più diciamo rispetto all'omofobia tu cosa ne pensi? diciamo che la transfobia non è molto, scusami, la transestualità non è molto accettata cioè ancora c'è gente chiusa mentalmente, retrograda e anche Mentecatto mi permette di dirlo che pensa che appunto la transestualità sia una deviazione mentale ma io dico siamo nel 2020, apriamo un attimo gli occhi e vediamo quali sono realmente i problemi della vita a proposito dell'HIV vorrei aggiungere una cosa, l'IBS per aprire gli occhi ai giovani di questo periodo ma anche non a quelli giovani è stata fatta una serie tv proprio Netflix ha fatto una serie tv che si chiama POS diciamo che è incentrata proprio sulla malattia, sull'IBS e l'HIV e diciamo che anche è un modo per sensibilizzare quelli che sono affetti da questa malattia che pensano di essere comunque soli ma in realtà non lo sono comunque il fatto di essere informati come voi comunque state facendo e chi potrà venire al seminario l'11 dicembre 2019, lo ripetiamo, nell'aula caldora dell'Università della Calabria avrà la possibilità di spaziare non soltanto per temi concernenti la sessualità ma come stai spiegando tu adesso anche quello che è la sessualità sicura perché comunque fare sesso significa sì avere un partner sia occasionale sia non occasionale però bisogna proteggersi perché una cosa che spesso non si dice è che le malattie sessualmente transmissibili sono tante e si ci può proteggere non solo col preservativo ma per esempio per quanto riguarda le ragazze col dental dam cose di cui si parla molto poco penso che ne parlerete sì diciamo che c'è molta disinformazione su questo campo perché perché ci sono tante altre precauzioni che si possono prendere purtroppo non soprattutto per il mondo femminile non c'è le ragazze non hanno molta consapevolezza di questo cioè pensano che magari possa esistere solamente il preservativo o meglio mi correggono le ragazze magari i giovani d'oggi ecco pensano che queste precauzioni che le precauzioni si fermano solamente al preservativo in realtà non è così perché insomma se ne sono molti altri sì beh la trasmissione diciamo sessuale può venire anche con il sesso orale cioè se con altri modi insomma di fare sesso di fare l'amore io penso che vadano spiegate l'educazione sessuale andrebbe fatta nelle scuole o comunque informare il più possibile con campagne ad hoc l'università io penso che con questi corsi lo stia già facendo e bisogna darne merito alla professoressa Bruni ma bisognerebbe davvero parlarne anche al di fuori questo seminario secondo me non una goccia nel mare ma invece è un raggio di sole in giornate buie come questa che però possono diventare colorate grazie tante Manuel grazie a lei arrivederci allora io sono Luca infatti sono il secondo anno di lingue e sono un allune della professoressa Mancini relativamente diciamo a questo seminario quindi sarà l'11 dicembre 2019 proprio dalle ore 15 alle ore 17.30 nell'aula caldora all'università della calabria cosa ci puoi dire cosa puoi aggiungere rispetto a questo soggettività topiche ai dintorni della sessualità normativa allora io penso che sia comunque un tema molto innanzitutto delicato che comunque bisogna parlarne soprattutto alle università perché sono luoghi dove la gente cioè i ragazzi soprattutto vengono a studiare a fare una formazione quindi giustamente bisogna integrare a questa formazione anche queste nozioni di vita tra virgolette perché comunque c'è chi è informato sull'argomento chi vive l'argomento cioè ogni giorno invece c'è chi o per motivi sociali motivi familiari questi argomenti sono ancora un tabù e quindi bisogna affrontarli affrontarli esatto ti è capitato studiando insomma insieme ai tuoi compagni di corso e anche insieme alla professoressa di affrontare delle tematiche che non solo tu non conoscevi ma di approfondirle e magari parlarne a casa o con gli amici sì c'è alcune tematiche cioè ne avevo sentito parlare però non erano molto chiare però comunque soprattutto l'altra volta collaboratorio insieme abbiamo affrontato argomenti che io non non ero preparato cioè non ero preparato a determinati argomenti e sono serviti a me sia come persone sia come ragazzo cioè comunque ragazzo che ne ho parlato comunque anche con i miei amici in famiglia cioè comunque sono argomenti che mi piace affrontare anche in una conversazione normale adesso ti faccio una domanda un po' particolare qual è la domanda? diciamo adesso è più facile conoscere le persone attraverso delle app dedicate come per esempio Tinder, Grindr, Growler con la geolocalizzazione quindi diciamo la sessualità non solo è stata sdoganata ma addirittura diciamo viene utilizzata in maniera molto più frequente rispetto a prima si ci conosceva già difficilmente adesso invece è molto più facile quindi prima parlavamo di prevenzione delle malattie io invece adesso voglio parlarti dei rapporti cioè secondo te sono cambiati i rapporti umani a livello di sessualità e quindi non so anche di conoscenza di un certo tipo di persone cioè se prima esisteva nell'immaginario collettivo soltanto l'etero il gay e la persona lesbica e forse qualche persona trans adesso secondo te c'è più scelta mettiamola così o comunque più varietà diciamo a livello social? assolutamente sì perché comunque avendo creato un'app per ogni tipologia chiamola così io che mi identifico in una brutto dirlo però comunque mi identifico in una categoria ho più facilità a trovare qualcuno simile a me qualcuno anche non solo come tipo relazioni rapporti ma proprio anche come cioè conoscere qualcuno nel mio stesso cioè la mia stessa situazione e comunque affrontare parlare guarda io direi così senza parlare di categoria perché categoria effettivamente si poi diventa categorizzante c'è una scrittrice che ha parlato di gabbie dei generi Federico Cerminara conosce bene la persona di cui sto parlando ed è Mirella Izzo però io invece invece di parlare di categorie parlerei di varianti naturali della personalità o del comportamento umano cioè ognuno di noi è non diverso è vario nel senso proprio di differenza nel sentire nell'essere e non bisogna secondo me schematizzare più di tanto quindi quello che tu dicevi è bellissimo perché vuol dire che non vuoi sentirti solo anzi cerchi persone come te con i quali anche parlare semplicemente del tuo essere in un determinato modo e dà la possibilità di non sentirsi più soli l'altra ragazza invece che abbiamo intervistato prima ha detto un'altra cosa Los Peccadores diciamo effettivamente siamo tutti diversi però riusciamo a ritrovarci e poi penso che in questo corso vi siete anche ritrovati avete avuto modo di confrontarvi sì e io cioè non solo cioè in questo corso proprio in generale quando sono arrivato all'università cioè io comunque vengo da un paesino dove molte cose sono cioè vengono gelate vengono nascoste proprio per vergogna una volta arrivato all'università già dal secondo giorno ho cominciato a conoscere tutti i miei colleghi abbiamo creato appunto il gruppo dello Speccadores cioè siamo comunque ho conosciuto ho conosciuto molte varietà ecco cioè proprio un mondo totalmente diverso da quello al quale ero abituato proprio mentre diciamo tu eri abituato appunto al piccolo paese nel contesto di paese le persone tendono come dicevi prima a nascondersi magari a fare le cose a nasconderle tu invece qua sei venuto nel territorio della libertà e quindi ti sono aperti tenanzi a te i vari colori dell'arcobaleno con tutte le sfumature che ci sono e ti sei finalmente sentito libero esatto cioè libero ma anche comunque consapevole di quello che di quello che sta succedendo di quello che mi sta succedendo e ci sta succedendo di cosa comunque io quando esco di casa vedo perché una volta potevo uscire di casa e comunque non fare caso a determinate cose adesso invece è proprio cioè più chiaro più cioè ho imparato molto si chiama sesto senso lo stesso hai aperto gli occhi e probabilmente sei più consapevole del mondo che ti circonda quindi io penso che questo sia per te un nuovo percorso di vita seguilo seguilo fino in fondo e grazie davvero di questa testimonianza perché ogni testimonianza che state rilasciando è un pezzettino di voi che può contribuire a dare una mano e ad aiutare anche gli altri sì grazie grazie davvero grazie a te ciao ciao sono Roberta Bevilacqua e sono una studentessa della magistrale di lingue e letterature straniere e sto studiando attualmente Gender Studies con il corso di letteratura inglese Gender Studies quindi mi vuoi spiegare un po' la tematica perché magari io non lo so gli altri nemmeno di cosa tratta il corso nello specifico? allora noi stiamo lavorando comunque principalmente sui testi letterari ma ovviamente prima abbiamo dovuto capire di cosa trattassero questi Gender Studies ed era un mondo al quale noi ancora non avevamo cioè non avevamo approcciato ecco in maniera molto specifica con questo mondo perché fondamentalmente è un mondo nuovo capire come si può guardare al Gender appunto in maniera più approfondita perché a volte abbiamo anche io stessa ho sbagliato nella mia vita a cadere in generalizzazioni che sono molto semplici e da fare se non si conosce bene il tema è normale caderci ma nel momento in cui poi ci si approccia con questo mondo si dice allora io ho pensato qualcosa di sbagliato fino ad adesso e il capire il fatto stesso che il Gender è un costrutto sociale e non ha a che fare con il sesso biologico magari questo stesso fatto è stato molto confusionario per me stessa e per tutti gli studenti di Gender Studies adesso che comunque dopo abbiamo parlato ci siamo confrontati e abbiamo capito proprio che fondamentalmente ci stavamo approcciando con qualcosa che fino a quel momento era stata per noi completamente sconosciuta sai cosa mi è venuto in mente mentre stavi parlando di Gender Studies? è vero anche che il seminario è riferito appunto alla sessualità ai dintorni eccetera eccetera però mi è venuta in mente un'immagine l'immagine che spesso e volentieri gira su internet specie adesso che siamo a Natale ovvero non lo so sai devi fare un regalo a una bambina gli regali il ferro da stiro per fare la mamma perché comunque la donna viene vista ancora oggi un po' come la cassalinga o comunque che comunque deve cucinare e provvedere ai bisogni dell'uomo quindi la parola Gender può far venire in mente varie cose sia i ruoli la questione dei ruoli che diciamo cancelliamo i ruoli invece no è tutt'altro cioè tu cosa pensi rispetto diciamo alla società magari che è un po' sessista un po' ma io innanzitutto credo che la pubblicità sessista sia una violenza di genere a tutti gli effetti nel senso che ci siamo anche qui nella città in cui studio tempo fa un certo negozio ha pubblicato un manifesto di una lavatrice identificandola come il regalo perfetto per una moglie perfetta appunto io credo che sia una violenza di genere a tutti gli effetti perché ho visto un'immagine molto interessante di un iceberg l'iceberg della violenza di genere ciò che è visibile ciò che invece non è visibile ed è come se fossero comunque visti soltanto magari gli stupri e tutto ciò che ha a che fare magari con la violenza verbale esplicita mentre invece nella parte sommersa dell'iceberg figurano le violenze verbali semplici lo solo fatto di dire sei stupida sei pazza se magari si espone una propria idea oppure appunto la pubblicità sessista il linguaggio sessista quindi credo che tutto ciò che ha a che fare con il sessismo è in realtà poi una violenza di genere come nel caso della pubblicità ad esempio quindi in questo caso noi possiamo dire che quando si parla anche di sesso spesso e volentieri la donna viene anche vista come un oggetto in quanto comunque nell'immaginario dell'uomo la donna comunque assolve soltanto una funzione riproduttiva sessuale e non invece magari una funzione in quanto persone quindi pari diciamo rispetto all'uomo perché la donna purtroppo da che mondo è mondo ha sempre dovuto lavorare di più e come dire anche farsi valere di più per poter dimostrare di essere non dico migliore dell'uomo però diciamo in certe cose anche più caparbia ecco nel raggiungere certi obiettivi ma noi abbiamo parlato proprio di questo in questi giorni abbiamo parlato dell'epoca vittoriana e di come venivano viste le donne ma poi in realtà nella vita di tutti i giorni pensando anche magari a le casalinghe ad esempio sembra proprio che in realtà delle cose poi effettivamente non sono mai cambiate e un'altra cosa molto interessante della quale abbiamo parlato è proprio la considerazione cioè l'associazione della donna alla casa il fatto che le donne debbano badare i bambini alla famiglia a tenere la casa pulita l'altro giorno a proposito di questo mi sono imbattuta in uno scambio di commenti su facebook che poi è un po' quello che dà voce a tutti in cui una donna della stessa età di mia madre quindi diciamo sui 50 anni credeva fermamente ha pubblicato questo stato nel quale appunto parlava delle donne in carriera in maniera anche un po' dispregiativa si dispregiativa perché non avevano il tempo di badare i figli quando invece adesso dovrebbe essere un concetto superato e infatti io mi auguro che la partecipazione a questo convegno possa essere molto attiva per il fatto che io adesso sono una ragazza, sono una ventenne ma mi auguro che quando avrò l'età dei miei genitori io così un po' come tutti i miei coetanei saranno in grado di affrontare il mondo con una visione differente parlare di gender, parlare di violenza di genere dovrebbe essere una normalità magari non se ne dovrebbe neanche più parlare in questo senso però tu vedi già stai facendo una differenza hai detto che tu che comunque sei molto giovane trovi tranquillamente normale anche se la parola a me normale non piace tranquillamente diciamo facile non doversi fare nemmeno la domanda perché diventa naturale tutto ciò mentre invece una persona di 50 anni che si è magari approcciata con dei canoni convenzionali ancora la pubblicità oggi me lo stai dicendo tu mattella diciamo le persone e le menti con degli stereotipi che è difficile scardinare però seminari del genere, corsi del genere, persone come te del genere inteso proprio non in senso di gender però riuscite a fare breccia anche in piccole realtà credo che comunque anche con i social tutti se magari hai discusso con questa persona le hai dato magari non forse la verità però le hai fatto venire dei dubbi io presumo che magari i figli di questa persona se li ha o se li avrà saranno magari anche diversi da lei spesso e volentieri capita che i figli siano proprio diversi dai genitori i genitori magari siano estremisti in un contesto invece i figli risano gay, lesbi che succede spessissimo che poi debbano lottare io credo che a questo punto dal momento che paradossalmente l'idea maggiormente condivisa sia ancora quella dell'estremismo dall'altra parte non dalla nostra prospettiva credo che a questo punto smuovere la coscienza e informare tocchi proprio a noi ai figli di questa signora a noi come studenti ma in generale e l'ho detto io spero solo che in un futuro si possano affrontare queste tematiche in maniera diversa in maniera normale come se fosse comunque non come se fosse è normale semplicemente bisogna farlo capire a chi non l'ho ancora capito ed è per questo che sono molto contenta di frequentare questo corso perché io stessa pur avendo già cioè pur non avendo idee di questo tipo ero già diciamo avevo già una forma mentis comunque abbastanza aperta orientata ecco orientata verso questo tipo di cose però insomma adesso spero che un po' tutti possano cambiare ma io mi auguro nessun tutto che tante persone possano partecipare l'11 dicembre al seminario e che voi siate diciamo più chiari possibile che abbiate la pazienza di ascoltare le persone anche che la pensano diversamente da voi perché comunque hanno bisogno di essere istruiti secondo me hanno bisogno di capire di vedere che non c'è nulla di avere paura insomma dall'altra parte ma semplicemente persone dalle quali apprendere qualcosa io ti ringrazio ti ringrazio tanto grazie grazie a lei bene siamo ritornati dopo la testimonianza dei ragazzi mi preme ricordare che il soggettività topiche dintorni della sessualità normativa è sempre organizzata all'interno del corso di letteratura inglese del dipartimento di studi umanistici all'università della Calabria presenta proprio questa giornata dell'11 dicembre quindi è importante perché all'interno di questo corso di letteratura inglese del dipartimento degli studi umanistici ritroviamo delle tematiche sempre attuali ma che soprattutto sono delle tematiche in itinere che non finiscono mai di essere snocciolate quindi Federico penso che sia concorde con me nel dire che la parola che abbiamo dato poco fa ai ragazzi ha dato probabilmente la curiosità necessaria per invogliare chi ancora non sa cos'è il gender o che cosa sono gli studi di gender studies a comprenderlo meglio io volevo ringraziare a tal proposito la professoressa Bruna Mancini che nell'ambito del suo corso ci ha ospitato il dipartimento di studi umanistici che ha preso possibile l'evento e soprattutto colui che insieme a me ha collaborato nell'organizzazione in maniera fattiva che Giuseppe Capalbo che è uno studente di questa università è attualmente un dottorando dell'università di Verona grazie davvero a tutti perché spero che questo sia il primo di tutta una serie di attività che possano rifocalizzare come dicevo all'inizio l'interesse di questa università e della nuova governance su queste tematiche bene Federico io ringrazio davvero nuovamente Federico Cerminara che come ripetevamo all'inizio è storico militante attivista per i diritti civili non solo il GBTQ e asterisco e invitare tutti quelli che vorranno a partecipare a questo seminario che si terrà l'11 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 17 e 30 presso l'aula Caldora dell'Università della Calabria salutiamo tutti gli amici web ascoltatori e se avete dei dubbi o comunque delle domande da porre potete tranquillamente contattare Federico Cerminara sul suo profilo Facebook o anche penso alla professoressa Bruna Mancini che sarà lieta di rispondere alle vostre domande grazie a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao